buongiorno allora la chiacchiera sarà di almeno un minuto perché altrimenti non posso allegare il link non so come si faccia negli short non vedo la possibilità allora questa è la ciambella che ho realizzato ieri seguendo la ricetta che adesso vi faccio conoscere tramite un link dove potrete seguirla la video ricetta allora io cosa ho cambiato dall'istruzione della cuoca allora ho utilizzato latte di soia e vaniglia e ho usato un bicchiere più tarchiato di quello della signora anche perché le dosi di un bicchiere io sono tutti diversi badate al bicchiere che usa fatevi un'idea dei liquidi che può contenere e ho aggiunto un cucchiaino di olio di semi di vinacciolo io in casa tengo quello quello di riso quello di semi di non mi ricordo cosa per minù quello di semi di lino quello di olio exavergine d'oliva locale che me lo regalano ma io non è contemplato nel mio nuovo modo di mangiare ma lo utilizzo sapete quando quando mi faccio le patate lesse ma non sempre a volte proprio un ciccinino a galometto sopra con un po di pepe lo so mi piace solo che poi mi porta a prudere le orecchie mi provoca un ezzema risolta la questione basta eliminare quello e non devo utilizzare i farmaci quando uno sa e poi lo tengo per gli ospiti lo tengo per gli ospiti in modo che possano avere la possibilità di scegliersi l'olio preferito quello è il fornetto versilia originale mi è stato regalato dalla mia famiglia che è camilla in realtà in questa casa vabbè e lo utilizzo tantissimo non solo d'estate considerate che molti ci fanno anche le angel angel cake quindi quelle alte alte e ci faccio ci ho fatto anche dei salati poi sapete io d'inverno ho la stufa legna accesa e cucino là dentro là dentro nel fornetto quello lì e sopra tra l'altro il forno è un forno che non è di quelli super mega wow della mia stufa legna non ha l'intercapedine torno torno però sapete cosa faccio rosolo bene sul piano della stufa poi sbato dentro qual è il problema e e poi si utilizzo il fornetto perché con il fuoco al minimo io nel piccolino non ce lo posso mettere perché dopo un po mi si stacca un robo non mi funziona più scusate allora uso il secondo fuoco perché ne ho solo due nella mia piccola cucinola di quelle con il coperchio bianche quelle classiche con le manopole la bombola da una parte e utilizzo l'altro che ho a disposizione tenendo il fuoco proprio al minimo e mi viene perfetta raramente mi si attaccano intorno al buco le prime volte da nuova da nuova ricette rodate mi si bruciavano proprio faccio la prova stecchino senza aprire il coperchio perché il coperchio è forato non vanno chiusi i fori tranquille tranquille quindi passo questa ricetta perché è venuta perfetta è buonissima la torta è buona è buona e poi qua vedete l'uva che io vado a rubare in giro ma che mi è stata regalata dai proprietari quindi ho il permesso vita natural durante di andare a peluccare l'uva che voglio me ne hanno riempita una borsata perché loro non la mangiano ne mangiano poca perché ce l'hanno lì ma non amano l'uva e queste sono le meline che mi ha regalato la paola la mia amica delle uova sono belle ci farò qualcosa aspetto aspetto perché la prossima settimana arriva un po di famiglia quindi arriva arrivano le mie ragazze di casa e arriva mia sorella la terz'ultima la laura ecco la ua ua vediamo un po se riusciamo a visticciare no scherzo e quindi me le tengo buone perché mia sorella è una fanatica delle frittelle e farò farò le frittelle questo dolce adesso lo è ancora abbastanza quello che manca due fettine le ho mangiate io il resto l'ho condiviso col vicinato e lo surgelo lo taglio oggi perché si taglia meglio e è bella la pasta rimane umido giusto buono e lo preparo già separato preparo le fettine separate così quando mi arrivano le belve è fatto io adesso in questi giorni man mano mi metto via cose cucino così quando arrivano loro non ho avrò quintalate di piatti le tasse che non vi dico da lavare ma non avrò grandi tegami adesso mi faccio già un'idea della cena perché solo avrò a cena e poi a colazione giorno dopo e vedrò un attimo cosa cosa fare per cena perché mia figlia non vuole la carne federica non vuole la carne mia sorella non vuole la carne ma mia sorella a volte non vuole neanche le uova ma se sono nei dolci sì e vedo un attimo insomma ho delle belle verze da fare posso fare le verze stufate il pesce posso fare c'ho il pesce e posso fare le torte di riso le preparo da partarsi via il giorno dopo soprattutto a camilla per il lavoro e ormai è un classico quando vengono su ora perché della stufaligna vengono buone faccio quelle e poi non lo so ma ci penserò oggi ho da finire di sistemare poi voglio tornare con i ferri in mano non ero tranquilla per niente questi giorni quindi non sono riuscite andare con le mani sul lavoro della cami e vabbè e vabbè non sono l'unica che ha un po' di pensieri nel mondo si viene a parlare di cura vabbè non voglio proseguire con una discussione mattutina sappiate che mia sorella per ottenere le cure sue salvavita deve andare in tribunale ogni tot mesi altrimenti non gliele passano e sono medicinali che vengono passati però quindi sappiate se io posso mai aver voglia di fare certe discussioni in rete anche no quindi grazie per chi è andato a prendere difesa da dottor ma comunque un abbraccio a tutte e buon vocalone che oggi ne registro un altro sapete che fare i vocali io che non sono di quelle brave tecniche con le sigle con i tagliamenti e cuci trasporta fai tutto pulito non fai sentire la tosse no sapete che sono proprio rustica negata più che altro ammiro le capacità altrui mi parte una giornata tra preparare la roba vado di getto poi sentite che parlo abbraccio che non leggo ecco però mentalmente ebbe preparare risposta lì c'ho un casotto dei filati e quindi mi parte un sacco di tempo cercate un po di apprezzarlo è a tanto love voglio il fornetto estense mannaggia luca si luca scusatemi luca mangerebbe i dolci meno male max ha anche il fornetto estense quindi chiediamo consigli anche a lui comunque a me tutte le ricette vengono è delle dei dolci classici gluten frio ci ho messo dentro di tutto anche la farina di piselli mi sa nei nei miei esperimenti col fornetto versiglia mia nonna nel fornetto versiglia a piombino mi ci cuoceva il corollo che è il ciambellone tipico elbano non so se anche livornese ma elbano il corollo a piombino mio nonno era del cavo mia nonna presumo sia nata lì nei dintorni del cavo facevano il corollo e la schiacciambriaca che poi è il dolce che poi riguarda tutta l'elba poi ogni famiglia avrà la propria ricetta e io piago perché non lo so fare il corollo come faceva mia nonna so che ci metteva la sambuca ci metteva l'olio usava la farina col glutine le uova veniva alto era soffice sì non ingozzava era profumato ci metteva la scorza di limone ci metteva anche la scorza d'arancia a volte ci metteva la sambuca però non so le dosi di zucchero farina uova è tutto lì è tutto lì e non c'è niente da fare ho trovato delle ricette in giro del corollo elbano ma non era come quello da mia nonna e lo faceva nel fornetto versiglia che non per niente è toscano quindi va bene per l'inverno va bene per non morire dal caldo d'estate va bene per risparmiare corrente elettrica se avete dei forni capienti dovete fare solo un ciambellone e fatelo là dentro no dovete solo un po' imparare con il vostro fuoco a capire quando è pronta io infilo uno spiedino di metallo dentro per verificare la cottura poi ormai riconosco il suono dell'affondo e sento non solo se è piccico dai fuori del coperchio non apro il coperchio poi dico oh che valo sei pronto sono pallidi un po' se non usate il cacao perché ovviamente non avendo una fonte di calore dall'alto non si abbrustoriscono però non viene non viene la crosta secca esterna che è anche meglio a volte va bene a presto vogliamoci bene per favore qui vogliamoci bene tutti io mando un bacino sulla fronte a luca ciao ciao a tutti vado a portare fuori la minucca e aneghe navogia oggi è assonato mezzogiorno e questa ancora qui che la dorma ma io non so la sua vescica ci sono già andata tre volte almeno quattro nel bagno al bagno ciao